Ciao a tutti ragazzi, scusate, benvenuti ad un nuovo video, in questo nuovo video mi è arrivato un pacco da Amazon ma stavolta io non ho ordinato niente, magari qualcuno me l'avrà mandato, comunque bando alle ciance prendiamo la zaccaya e passiamo alla bozzig che cosa stavolta mi avrà inviato, il film d'azione Harley Davidson e Marlboro Man, allora ringrazio tanto Simone Botter per avermelo spedito, che stavolta io non gli ho chiesto nulla ok, film che è della MGM, che Simone Botter mi ha mandato anche il film d'avventura a fuoco nella stiva, che era tipo dicembre, vabbè comunque vediamo cosa dice ok, allora, è un film per tutti, contenuti extra trailer cinematografico, durata di 1 ora e 35, in un mondo dove non vige alcuna regola, una coppia di sbandati, Harley Davidson, Mickey Rook e Marlboro Man, Don Johnson, aiuta un veicolo amico a salvare un bar, svaliggiando proprio la propria banca che cerca di assumere il controllo tuttavia, non si tratta di una banca normale, il fulgore è blindato che, i due attaccano, non è pieno di denaro, bensì di droga da questo momento, Harley e Marlboro diventano oggetto della spietra da caccia all'uomo, con tutta la guerra e sabbia scagliozzi senza scrupoli del corrotto della direzione della banca e vabbè, comunque lo tengo incellofanato finché non me lo vedo, e niente, ci vediamo alla prossima